Questa sera, giovedì 26 aprile 2018, alle 2 gennaio 15 su Schiuno va in onda la terza puntata con Matrimonio a Prima Vista Italia 3. A seguire le coppie ritroveremo l'ormai collaudato team di esperti, il sociologo Mario Abis, docente allo IULM di Milano, lo psicologo Gerry Grassi, psicologo, psicoterapeuta specialista in terapia breve e ipnosi, e la sessuologa Nadaloff-Fridi, docente di psicologia all'Università La Sapienza di Roma. Le coppie protagonisti di questa terza stagione sono, Roberto Orlandini e Daniela Benvenuto, Mauro Antonelli e Camilla Rolchi, Andrea Tomasini e Rossella Gatta. Dopo le prime due puntate dedicate alle nozze al buio e al viaggio di nozze, per le tre coppie è arrivato il momento della convivenza, che porta con sé le prime vere difficoltà della vita coniugale. Non è facile trasferirsi a casa di uno sconosciuto, condividere gli stessi spazi e lasciare che metta le mani nelle tue cose. Ma vediamo come stanno le tre coppie dopo le prime due puntate. L'inizio di Roberto e Daniela non è stato dei più facili. Lei, 28 anni, ha reagito male alla vista di Roberto, uno anni di più. Anche durante la luna di miele, Daniela è apparsa molto sostenuta, mentre Roberto ha più volte cercato di instaurare una certa complicità con la moglie. Ma lei non molla e ha detto che l'idea di dormire con uno che non conosce la mette a disagio. Per questa settimana gli esperti gli hanno dato un compito intimo, ovvero quello di accarezzarsi per creare un rapporto di complicità. Mauro e Camilla sono entrambi di Roma, lei è apparsa subito molto coinvolta, mentre lui è molto sulle sue. Mauro si è lamentato dell'eccessiva mascolinità di Camilla, che si è offesa e ha deciso di prendersi del tempo per riflettere. La luna di miele in Sicilia di Andrea e Rossella è andata bene e ora lui si trasferisce a casa di lei. Per cercare di trovare una dimensione comune, i dei vanno trovare la famiglia di Andrea a Rento.